Si riunirà lunedì prossimo alle ore 20 e 30 nella sala consigliare Falcone Borsellino il civico consesso mascalese che è chiamato a trattare nuovamente il punto relativo alla deliberazione della Corte dei Conti numero 77 del 2016 in relazione all'ampliamento di uno stabilimento sul territorio mascalese sul quale dovrà essere adito il responsabile del servizio finanziario e il revisore dei conti a seguito degli opportuni chiarimenti stabilire un'eventuale istituzione esensi dallo Statuto Comunale della Costituzione di una commissione speciale di indagine Un altro punto da trattare riguarda l'approvazione del regolamento per l'uso del patrimonio immobiliare Un altro punto è il regolamento per la concessione di un contributo a seguito di adozione di canni randaggi recuperati sul territorio comunale